La prima mobilitazione in chiave ambientalista del popolo siciliano. Così viene ricordata la marcia dello Zingaro che impedì la realizzazione di una strada che avrebbe distrutto 1.500 ettari di natura incontaminata tra Calamazzo di Sciacca e la Tonnarella del Luzzo. Era il 18 maggio del 1980 quando 2.000 persone di ogni età, l'estrazione sociale e politica, raccogliendo l'appello lanciato da un cartello di associazioni ambientaliste, marciarono pacificamente da Scopello a San Vitolo Capo. Ieri una celebrazione per ricordare quell'evento. Oggi si ricorda quello che è successo 40 anni fa, una marcia che ha rappresentato la rinascita di questo territorio e oggi quasi come un paradosso il 18 maggio 2020 la rinascita del nostro paese Italia perché da oggi parte la fase 2. Mi auguro che così come per la riserva dello Zingaro è stato un momento fortunato perché ha rappresentato ricchezza per tutto il nostro territorio perché la riserva naturale orientata dello Zingaro, ben gestita dall'azienda Foreste De Maniali e dal personale che ci lavora, che ci ha lavorato e che continua a lavorare, ha rappresentato un grosso attrattore turistico per San Vitolo Capo e per la parte occidentale della Sicilia. Mi auguro che questo stesso messaggio possa partire da oggi, il 18 maggio, per l'economia di questi nostri territori. La marcia portò un anno dopo all'istituzione della prima riserva in Sicilia, oggi meta di un turismo internazionale con i suoi 7 chilometri di costa per quasi 1700 ettari di natura incontaminata. Presente a San Vitolo Capo il presidente della regione Nello Musumeci. È stato un atto di grande coraggio quello compiuto 40 anni fa da tanti allora giovani e meno giovani di tutte le parti politiche. E oggi noi possiamo offrire all'ammirazione del visitatore, del turista, un angolo di paradiso. Dico questo in una terra dove la speculazione edilizia e la devastazione selvaggia di aree che erano incontaminate ha scritto bruttissime pagine. Quando la politica si girava dall'altra parte faceva finta di non vedere perché erano più utili mille, cinquemila voti di preferenza piuttosto che mettersi di traverso e dire no, qui non si costruisce. Oggi questo senso di responsabilità, quello della sana tutela del territorio è cresciuto, si è diffuso. Noi siamo contenti perché la nostra azienda regionale gestisce un'area, quella dello zingolo, in maniera assolutamente razionale e impeccabile c'è ancora tanto altro da fare in Sicilia perché qui puntare sul segmento del turismo paesaggistico e naturalistico assieme alle altre realtà territoriali, penso al turismo culturale, penso anche a quello balneare, può essere una preziosa occasione per dare una mano di aiuto positiva alla nostra economia. Grazie a tutti.